Galassie, strutture fondamentali dell'universo tra scoperte e aspettative. Ciao e benvenuto nel nostro canale YouTube. In questo video parleremo di un argomento che da sempre ha suscitato molto interesse, le galassie. Ma cosa sono e perché sono ritenute strutture fondamentali dell'universo? Le galassie sono aggregati di stelle, gas e polveri che costituiscono le strutture fondamentali dell'universo. Questi oggetti celesti sono stati scoperti per la prima volta nel XVIII secolo, ma solo nel XX secolo si è capito che non erano semplici nubi di gas, ma che avevano una struttura complessa. Le prime galassie furono scoperte nel 1924 dall'astronomo americano Edwin Hubble, che utilizzò il telescopio Hooker per studiare il fenomeno delle nebulose extragalattiche. Hubble notò che queste nebulose presentavano una struttura a spirale e ne dedusse che dovevano essere delle galassie simili alla Via Lattea. Nello spazio ci sono diversi tipi di galassie. Eccone alcuni esempi. Galassie ellittiche. La loro forma sferoidale o ellittica è il risultato di una distribuzione casuale delle stelle all'interno della galassia senza una struttura a disco ben definita come nelle galassie a spirale. A differenza di queste, le galassie ellittiche non hanno zone di formazione stellare attiva e sono composte principalmente da vecchie stelle rosse che conferiscono loro un aspetto più rotondo e uniforme. Sono spesso presenti al centro dei grandi agglomerati di galassie, dove la loro massa elevata contribuisce a mantenere l'equilibrio gravitazionale del sistema. Grazie alle loro proprietà e alla loro posizione all'interno di questi ammassi, le galassie ellittiche sono importanti per lo studio dell'evoluzione e della dinamica delle strutture cosmiche su scale cosmologiche. Galassie a spirale. Sono caratterizzate dalla loro forma piatta e dal fatto che ruotano su se stesse come un disco. Questo tipo di galassie ha bracci a spirale composti da gas, polvere e giovani stelle blu. La Via Lattea, la galassia in cui si trova il nostro sistema solare, è una galassia a spirale. Queste sono molto comuni nell'universo e si pensa che possano rappresentare fino al 70% delle galassie che conosciamo. Galassie irregolari. Non seguono una forma regolare come quelle a spirale o ellittiche. Invece hanno una forma distorta e disorganizzata, con bracci e strutture irregolari. Queste galassie sono spesso composte da giovani stelle e gas, il che le rende luoghi ideali per lo studio della formazione stellare. Possono essere il risultato di collisioni o interazioni gravitazionali tra galassie, oppure di flussi di gas turbolenti all'interno della galassia stessa. Sono spesso caratterizzate da una forte attività di formazione stellare. Galassie nane. Sono molto più piccole rispetto alle galassie normali come la Via Lattea, che contiene circa 200 miliardi di stelle. A causa delle loro dimensioni ridotte, hanno una massa molto piccola e una luminosità relativamente debole. Tuttavia, nonostante le loro ridotte dimensioni, le galassie nane possono essere molto importanti per la nostra comprensione dell'universo. Infatti, sono state scoperte nei pressi della Via Lattea e si pensa possano contenere importanti informazioni sulla formazione di questi ammassi e sulla materia oscura. Inoltre, alcune galassie nane, come la grande nube di Magellano e la piccola nube di Magellano, sono visibili ad occhio nudo e sono state oggetto di studio da parte degli astronomi per molti anni. Ma prima di proseguire, se il video è di tuo gradimento, non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Galassie di Seifert Sono galassie attive che si distinguono per l'emissione di grandi quantità di energia dalla regione vicino al loro nucleo, che si presenta luminoso con linee di emissioni forti. Le galassie di Seifert sono state scoperte per la prima volta dallo studioso americano Carl Keenan Seifert nel 1943 e sono stati oggetto di numerosi studi da parte degli astronomi. Si ritiene che la fonte dell'energia emessa dal nucleo delle stesse sia costituita da un buco nero supermassiccio. La maggior parte delle galassie di Seifert si trovano a distanze relativamente vicine alla Via Lattea, il che le rende accessibili per gli astronomi che cercano di comprendere i processi fisici alla loro base. Gli astronomi cercano di studiare queste formazioni, in particolare le galassie a spirale, con l'obiettivo di esprimere queste conoscenze in un modo più fluido e preciso. Cercano inoltre prove di eventuali presenze di vita all'interno delle galassie, come segnali radio provenienti da altre civiltà, sperando di ottenere nuove informazioni sulla struttura dell'universo. Abbiamo selezionato cinque delle più importanti scoperte. Al quinto posto, nel 1963, gli astronomi Arno Penzias e Robert Wilson scoprirono il fondo cosmico a microonde, una radiazione che si crede sia l'eco del Big Bang. Questa scoperta ha fornito importanti informazioni sulla formazione delle galassie e dell'universo stesso. Al quarto posto, nel 1977, gli astronomi Vera Rubin e Kent Ford scoprirono la materia oscura, una forma di materia che non interagisce con la luce, ma che ha un'enorme influenza sulla gravità e sulla formazione delle galassie. Al terzo posto, nel 1995, gli astronomi Michael Mayer e Didier Kelos scoprirono il primo pianeta extrasolare, ovvero un pianeta che orbita intorno ad una stella diversa dal Sole. Questa scoperta ha aperto la strada alla ricerca di altri pianeti e ha fornito importanti informazioni sulla formazione delle galassie. Al secondo posto, nel 2015, gli astronomi dell'ESA, Agenzia Spaziale Europea, hanno scoperto l'esistenza di una vasta struttura a forma di muro composta da galassie e gas che si estende per circa 500 milioni di anni luce nel cosmo. Questa scoperta ha fornito cruciali informazioni sulla struttura dell'universo e sulla sua formazione. Al primo posto, nel 2019, gli astronomi hanno ottenuto la prima immagine di un buco nero, una regione dello spazio in cui la gravità è così intensa, da impedire persino alla luce di uscirne. Anche questa ulteriore scoperta ha contribuito ad aggiungere un pezzo al puzzle della conoscenza sulla formazione delle galassie. Quale tipo di galassia ti affascina di più? Scrivilo nei commenti qui sotto e ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella se ancora non lo hai fatto per rimanere sempre aggiornato sui prossimi contenuti.